SOS Lupo, il WWF si mobilita contro la proposta dell'abbattimento selettivo, proposta non necessaria, visto che non si registrano numeri sufficienti da richiedere un intervento così massivo sul territorio nazionale. Noi siamo assolutamente contrari, abbiamo chiesto lo stralcio proprio di questa parte, perché il Lupo non è assolutamente in sicurezza, ci sono ancora un numero troppo limitato di esemplari, peraltro vittima di bracconaggio, ci sono dei problemi legati all'ibridazione con i cani, quindi prima di pensare anche solo a eventuali ipotesi di abbattimento, devono essere fatte tutta una serie di operazioni. Proprio le riserve infatti si sono preoccupate di creare le condizioni per prevenire incidenti e danneggiamenti da parte delle specie selvatiche nei confronti dell'uomo. Inoltre gli attacchi dei lupi contro gli esseri umani non si registrano da tempi lontanissimi e per gli attacchi al bestiame sono state distribuite recinzioni elettrificate come dissuasori. La realtà è chiara, basta guardare i dati, non si verificano attacchi all'uomo da parte del lupo da forse 200 anni. Noi quotidianamente impieghiamo la nostra professionalità, la nostra passione per la conservazione della natura. Lo facciamo attraverso degli studi, attraverso dei monitoraggi con delle tecniche come il fototrappolaggio, come il wolfhawling, cioè il richiamo del lupo per ottenere una risposta, per andare a conoscere quindi questa specie, per andare a valutare la loro presenza, la consistenza della popolazione e come questa si distribuisce nel nostro territorio. Perché lo facciamo? Perché vogliamo dimostrare che la convivenza fra due specie diverse, l'uomo e il lupo, è possibile. Grazie.